Ciao Fragolini! E c'è Fragoline! E benvenuti in questo nuovo video! E finalmente siamo pronti anche noi per quest'anno scolastico 2022-2023, vero Giada? Sì! Perché? E perché è il mio primo anno di scuola! Sì, quest'anno Giada che ha compiuto sei anni inizia la scuola! Giada incontrerà nuovi amici, imparerà tante cose, giocherà, insomma una nuova avventura, vero Giada? Sì! Ma ora veniamo a noi! Siete curiosi di vedere che cosa ha preso Giada per la scuola e lo zainetto nuovo? Sì! Tu sei curiosa Giada? Sì! Ma tu già lo sai! I nostri amici ce lo devono dire! Siete curiosi? Non sento! Siete curiosi? Ok! Vi facciamo vedere subito, un attimino! A few moments later! Ok, eccoci qua! Allora, questi sono tutti gli accessori per la scuola! Abbiamo l'astuccia, abbiamo il diario, i quaderni... Allora, iniziamo con la prima cosa! Abbiamo il portapenne, Popi... Che Giada l'ha voluto! Che c'è messo dentro? Facci vedere! E dai, tira fuori! E diamo... Sì, butta tutto fuori! Due gommine! Abbiamo due gommine! Penna unicorno! Penna unicorno! Penna di me contro... Penne! Le penne glitterate dei me contro te! Allora, questa è la penna unicorno! Multi! Altre penne! Abbiamo... Una matita con le mine... Praticamente quando finisce... Si schiaccia ed esce la punta... Poi... E poi le altre penne! Abbiamo una penna delle LOL! Vediamola! Bella! Questa è la mia preferita perché è la tua preferita! E' super bella! E' super bella! E poi abbiamo un temperamatite con la gomma! Poi Giada ha voluto il diario segreto delle LOL! Perché gli piacciono le LOL! Poi facci vedere questo bel diario! Guarda, questo è il mio preferito! Questo è il tuo preferito! Perché che cosa c'è dentro gli... Sticker! Con le emoji! Fammi vedere, porta qua! Sticker con le emoji! Bello! Wow! A che mai state? Questo praticamente è il diario della Seven! Sì! Jay? Sì! Guarda, è la borsa del pop-it! C'era pure la... Guarda che bello! Questo quando poi devi... Il prossimo di queste penne sono buonissime! Sì! Sono buonissime! Poi abbiamo... Il prossimo della stracola! Cosa voleva Giada? Il quaderno? Delle LOL! Delle LOL! Super gigante! Super gigante! Perché Giada ha detto che ormai Minnie basta perché lei è cresciuta! Questo qua! A righe! E quella a quadrettoni dei... Me contro te! Wow! Praticamente abbiamo fatto un misto! Ecco qua, quella a quadrettoni dei Me contro te! Questo è bellissimo! È tutto glitterato! Sì! E poi vediamo l'astuccio! 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 Mitama! Ok, aspetta che lo apro! Aspettiamo un attimino ragazzi! A few moments later! Ok! Abbiamo tolto... Allora abbiamo 47 pezzi! Due accessori fluo, due penne cancellabili, insomma, allora vediamo! Prima faccia! Guarda! Vediamo cosa c'è! Metti giù Giada! Guarda! Vediamo! Wow! Abbiamo un tempera matite al libro, una gomma, abbiamo la colla, il righello... Sì, la colla per attaccare le cose così... Poi abbiamo i colori fluo, poi abbiamo le penne cancellabili, ok! E la gomma, poi! Chiudi questa parte e andiamo alla seconda! Chiudi! Ok, andiamo dalla seconda! Andiamo al centro, apriamo la zip! centrale? Quella centrale è la sinie! Quella centrale alla fine? Sì! Ok! Qui abbiamo tutti i pennarelli colorati! Sì! Che vanno via con l'acqua a letto! Quindi se Giada ancora che ogni tanto si macchia... Si può lavare super bene! Si possono lavare! Ok, vanno via con l'acqua! Sì, se si compriamo pure il washroom! Se si possono lavare subito! Sì! Ok, chiudi! Ok, andiamo all'ultima parte così di che facciamo vedere una cosa super bella! Super bella! Sicuramente ci saranno le mattinite! Vediamo! La parte centrale è tutta viola! Che bei colori che ha questo astuccio! Io sono! Fammi vedere di qua ci sono... Allora qua... I cagnolini e di qua ci sono i gelati! Così durante l'inverno se ti viene nostalgia dell'estate guardi l'astuccio e sei contenta! Ok, apri! Siete emozionati! Vai! 3, 2, 1... 1... E ci sono le matite colorate! Le matite con le puntone super lunghe! Sì, con una super punta! Perché sono belle temperate! Sì! Poi le temperi tu col temperamatite che c'è all'interno! Sì! Ok! E ora è arrivato il momento Giada di far vedere il nostro... Aspetta che lo prendo io! Cosa Giada? Il nostro... Sul nostro canale! Adesso è certo, perché questo è il tuo primo anno di scuola! Lo zaino... Dell'unicorno! Super trolley! Un trolley! Ed eccolo qua! Wow! Sempre della Seven! Sì, sempre della Seven! Con il sistema... Fa vedere Giada! Tre ruote! Praticamente agevola le scale, le salite! Così Giada non si stanca! E... Se lo trascina! Allora, qui faccio vedere com'è! Qua si alza e si apre, ma lo sapete! E poi qui... C'è l'unicorno! Ok ragazzi, è piaciuto il mio zaino? Scrivetevi sotto i commenti! Sì, scrivete nei commenti se vi è piaciuto lo zaino di Giada! Bellissimo questo ricordo! Oppure l'astuccio o il diario? L'astuccio, il diario... Vabbè, questo... E poi i quaderni... Quadernoni... Ok, ora... Se volete... Insieme a noi mettiamo le cose a posto nello zaino! Vero? Giada, vai! Apriamo, facciamo vedere dentro che è bello spazioso! Allora, cosa mettiamo prima? L'astuccio! L'astuccio! Vai! Poi... Quaderno! Forza! No, il quaderno gigante... Sì! Lo mettiamo alla sine? No, lo mettiamo ora! Dai! Quaderno! Alla sine? Poi, aspetta, il diario è meglio metterlo fuori, nella tasca esterna! Mettiamo quest'altro quaderno... Quest'altro quaderno... Poi, chiudi! Poi chiudi! Chiudiamo! Dai! Chiudi! Poi, apri qui... Nello scomparto esterno... Nello scomparto... Mettiamo il diario... Così è a portata di mano, quando ti serve... Chiudiamo... Ah, mettiamo anche... Questo, dai! Sì, così si fa, bello pieno! Bello pieno! Ok! Vai, chiudi! Ecco il nostro scomparto... E il diario segreto? Lo mettiamo qui! Davanti! Nello scomparto... Dove c'è il disegnino dell'unicorno, in quello piccolino, sì! Ma qui non ci entra! Sì che ci entra! Hai visto? Ci entra tutto, è grandissimo questo zaino! Qui ci entra tutto ormai! Ok! Sono segnata per questo zaino! Ok, già te è pronta! Forza! Per la scuola? Sì, sì! Ma come? Ok, vieni! La scuola! Ma perché di quando è pronta? Già te è pronta! Buona scuola! Ciao Giada! Ok, ciao! Ci vediamo dopo! Buona scuola! Ciao! Ciao ciao! Ovviamente con le scarpe, non scalza! Ok! Vi salutiamo! Se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, lasciate un like e iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto le mie cose, iscrivetevi, commenti e ciao! Ciao! E ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!